La Costituzione non è un semplice elenco di regole, ma è prima di tutto un grande racconto che ci spiega da dove arriviamo e dove non vogliamo più tornare. Si dice per esempio che nel nostro paese è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del 18 partito fascista, perché la dittatura e la guerra ci hanno insegnato che libertà e giustizia sono valori a cui non vogliamo più rinunciare. Il 2 giugno 1946 segna un momento cruciale nella storia italiana, quando gli elettori si recarono alle urne per decidere il futuro del paese, scegliendo tra la monarchia e la repubblica e per eleggere i membri dell'assemblea costituente. Quest'ultima, composta da 556 deputati, fu incaricata di ridigere la carta fondamentale dello Stato. Questa fu la prima volta che un'assemblea straordinaria così vasta venne convocata per tale compito e segnò anche la prima partecipazione delle donne in un'assemblea elettiva, con 21 donne e 3 deputati. La Costituzione italiana rappresenta la fonte suprema del diritto nel sistema giuridico italiano, con 139 articoli. È una Costituzione rigida, il cui processo di modifica richiede un particolare procedimento aggravato rispetto alle leggi ordinarie, garantito dalla giurisdirezione della Corte Costituzionale. Nel corso dei suoi 75 anni di vigore, la Costituzione ha dimostrato la sua resilienza e capacità di adattamento, mantenendo i principi fondamentali di democrazia, legalità e ugualianza. Ha subito diverse modifiche per rispondere alle esigenze sociali in evoluzione, come l'estensione della tutela ambientale e il riconoscimento delle peculiarità delle isole. La Costituzione è composta da 139 articoli con derivate comma, che a sua volta possono essere suddivisi in quattro parti. La prima parte comprende i primi 12 articoli, detti anche i principi fondamentali. La seconda parte comprende i diritti e i doveri dei cittadini, che vanno dall'articolo 13 all'articolo 54. La terza parte comprende l'ordinamento della Repubblica, che va dall'articolo 55 al 139. Ed infine abbiamo la quarta parte, che comprende la disposizione transitoria e finali. Il primo articolo della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e ciò significa appunto dover assicurare a tutti la possibilità di lavorare, perché tutti i lavoratori devono essere nelle condizioni materiali e spirituali di contribuire all'organizzazione della vita politica, economica e sociale del Paese. Grazie.